Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Grythelfing Oggi siamo sempre nelle fazioni Sto per funerare Non so perchè scelterlo Vabbè, continuiamo a rifare Questa rifata Lo useremo solo qua Sto per dire scusate per il taglio E useremo solo l'acqua Allora, continuiamo a rifare Non so perchè mi stiamo uscendo il ferro Per questi ruari Allora, continuiamo a usare la nuke Qua Yes, bitch Allora, continuiamo a usare la nuke Questa è la nuke Questa è la nuke Questa è la nuke Della serba Perchè stava sempre in Italia Perchè mi spiegherò Che la serba di mamma non è mai serba E ora Le ho detto un mito di falso E ora è in questo La serba è la stessa cosa O chissà che sta pensando Allora No Non lo so La che è la qui Non è più Non so Andando Non è più Le puoi Le palle E C'è una leggera Allora Perchè la Lavorate Questa è intanto un po' più minuti che l'hanno aperta la presa scoperta. Buongiorno. 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 in un pochini minuti tutto questo ma c'è la grossa manica che è un pochino che palle ninja ah comunque sono un ingegnere su video lippi del sere ve lo lascio in descrizione ve lo do solo per questo non so perchè, forse perchè è notale quando mi dicevole che ci fia il problema che ci? in un pochino che ci sono tante che hanno costruito tutto quanto ma prima ho parlato in questo giugale a ballo perchè si truffano da me e non potevano ruffare quindi ho ruffato più tardi e l'ho ristegnato tutti morti del mondo del mondo, la sonda è il mondo, la sonda e distruggiamo l'ottigello di mierda ha digiuno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco... E' il tuo turnip... Tonto! Tonto! Vabbè... Ragazzi, direi che... Se si ne accorge... La griffa è finita... Vabbè, noi continuiamo... No... Dai, dai, dai... Ecco, la griffa mi faccio... Fa niente, dai... Mi sa che sarò bannato... E' un po' di... Ma quando non stiamo a fare niente? Non scriverei... Non c'è la lettera... C'è la... C'è la... C'è la... C'è la... C'è la... La griffa... E' un po' di... 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 Buon Natale a tutti... E'... Godetevi queste vacanze... Queste due settimane di vacanze... Lontane dalla scuola... E'... Vabbè... Questo video è finito... Ciao!